Buona notte e buon venite in un altro interessante edizione di Glamour. Buona notte e buon venite con más informazione di farrandola, moda e bellezza. Buon venite con i nostri programi. Naturalmente, buon venite in un special di Thanksgiving. Nos che llama Danke. Nos che llama Danke, primeramente, na todopoderoso. Cuo aduna tanto monica, cana, tentere crù di Glamour. Buon venite, salù e forza pa continuare con i acabati 3 anni di Glamour. Riva bo pantalla. Naturalmente, abo, nos duche televidente, cuo tour si mang di nuovo da sintonizzare il programma Ake di Glamour. Danke di corazon, pavo sostegno, pavo apoio. E nos ti insegur, nos lo por segui conta. Vopi anya más di sostegno, apoio e tambe sintonia di abo, nos duche televidente. 22 de novembre, un dia más especial pa' turnos musiconan. For diakitambe, il team completo di Glamour demanda un'palabra di felicitazion caluroso. Na tur turnos musiconan. Deseanan tambe hop e forza, vida e salù pa' continuare con i deleitanos con i duche composizionan e i duche musica. Tur tur cos bon, pa tur turnos musiconan. Especialmente, snang di corso, na nomber di Glamour.